Una sfida tra i due giganti del fast food a Lugano, McDonald's e Burger King. Un confronto in cinque capitoli. Prezzo. Quale doppio cheeseburger ti è piaciuto di più? Gusto. Era semplicemente più gustoso, meno unto. Igiene. Due vassoi hanno rilevato batteri che sono di origine fecale. Salute. Rimane un po' ambiguo se è solo il fornitore che è svizzero, se anche il prodotto è anche quello svizzero. Efficienza. Sono fiducioso che riuscirò a ottenere le patatine senza sale. Patti chiari. Venerdì alle 21.10. Sulla 1.